mi torna in mente il giorno del nostro incontro tu eri solamente un bambino e non riuscivi a stare fermo un attimo dovevo medicarti una ferita nuova ogni giorno noi zora viviamo più a lungo di voi ilia quindi senza che me ne accorgessi sei diventato più grande di me in realtà devo confessarti che poter curare le tue ferite mi rendeva felice che cosa sarà mai questa calamità ganon che potrebbe colpirci di nuovo come faremo a difenderci non so niente di tutto ciò l'unica cosa che so è che lo scontro sarà molto pericoloso se voi se tu dovessi farti male in battaglia ci penserò io curerò ogni tua ferita io voglio proteggerti a ogni costo appena la battaglia sarà finita tornerà tutto come quando eravamo piccoli e allora verrai di nuovo qui a trovarmi